Stiamo aprendo un dialogo importantissimo perché il mondo ha cambiato. Dobbiamo capire che il mondo ha cambiato e che dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere e trattare con il mondo. E qui cultura, religione, pace, tutti questi concetti importantissimi hanno un ruolo da giocare. Ma più importante forse è quello della trasparenza e della democrazia. Una certezza, quando c'è qualcosa trattato con trasparenza c'è progresso. Quando c'è una situazione diversa siamo davanti a problemi.